I carabinieri della compagnia di Modica hanno scovato un soggetto che si rendeva irreperibile dal 2021 e nei cui confronti era stato emesso un apposito decreto che ne dichiarava lo stato di latitanza. Il 36enne, di origine catanese ma gravitante per anni nell'area di Pozzallo, la cui pericolosità sociale ha sempre contraddistinto la sua persona, era destinatario di un provvedimento che disponeva un cumulo di pene concorrenti. Pertanto i militari del nucleo operativo e radiomobile di Modica si sono diretti alla volta di Catania al fine di riscontrare il quadro indiziario acquisito nel corso del tempo. Individuato l'appartamento nel quale si era sentito al sicuro per anni, gli operanti hanno potuto constatare sin dai primi momenti la sua mancata collaborazione. I tentativi di avviare un dialogo sono risultati vani per ore nonostante la consapevolezza di essere arrivato alla fine della sua forsennata irreperibilità. Alla fine, dopo una lunga trattativa, il latitante ha deciso di accettare il verdetto della giustizia. Pertanto, informata l'autorità giudiziaria, il 36enne è stato condotto presso la casa circondariale di Catania a Piazza Lanza.